Video ripresa in full HD con Galaxy S3 Monta una ROM leaked, l'ultima leaked Di Android Jelly Bean 4.1.1 Facciamo un cambio di luce Prendiamo queste bellissime piante Vediamo un attimo L'acquario Start to focus Come vedete funziona bene Ma adesso, dato che sto provando appunto La ripresa video in full HD con Jelly Bean In Jelly Bean ho notato che è stato migliorato molto il reparto audio Quindi adesso stopperò il video E andrò a provare una breve registrazione audio con lo stereo Eccoci ci siamo Questo è il mio computer bolide Qua abbiamo uno stereo, come vedete un subwoofer da 200 watt E adesso testiamo un pochino l'audio Come si comporta Ho scelto una canzone con un po' di bassi Non ci siamo un po' Alla prossima Vi assicuro che qui tremavano i mobili Quindi l'audio era veramente molto alto Adesso sentirò anch'io come è venuta questa registrazione Da Luca alias Lucobaldo3 è tutto